L'obiettivo del progetto giovani della città di Vittorio Veneto è stato da sempre quello di sviluppare e favorire il talento dei nostri giovani e dei nostri ragazzi. Quindi con questo concorso sviluppiamo e diamo la possibilità ai ragazzi di mettersi in mostra, di farsi conoscere anche oltre che dal pubblico da una giuria di qualità. L'altro obiettivo è sicuramente quello di fare rete e con tutta una serie di sponsor e collaborazioni diamo la possibilità ai tre migliori gruppi che si presenteranno e parteciperanno al contest di vincere dei premi molto utili anche per il loro futuro musicale. Per cui l'invito non può essere altro che all'Under 35 di partecipare a questo concorso.